salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi alleneremo le braccia comincieremo ovviamente con i bicipiti ragazzi Karl faremo tre serie per cinque tre serie per cinque ragazzi ovviamente perché abbiamo cambiato il numero di ripetizioni come avete visto già dal scorso episodio con il petto ragazzi adesso però prima ci andremo a pesare e poi faremo il caso tre per cinque con trenta sei chili ragazzi 59 punto 90 chili grasso corporeo 13,6 siamo aumentati di 600 grammi e la massa grassa è aumentato da 0,6 per cento rispetto alla volta scorsa in serie parte ovviamente adesso ci vediamo con il calda fecarra le card si ora mi metto a parlare in inglese card martello tre serie per otto con il petto ragazzi faremo 26 chili tre serie per otto 26 chili sempre non aumentiamo vediamo con l'esercizio ok ragazzi carlo martello fatto adesso passiamo comunque il terzo esercizio abbiamo il calda fecarra Il caldo è un capopasso, ovviamente avevo detto che ho aumentato da 14 a 16 kg e così farò. Ovviamente abbiamo tre sedi, dovremmo fare 3x10 ma con 26 kg è davvero difficile, vediamo cosa succede. Ok ragazzi siamo riusciti a fare tutte e 10 le ripetizioni, non me lo aspettavo veramente, sono sorpreso. Va bene così ovviamente, ragazzi ci vediamo con i tricipiti, adesso faremo la French Press con 26 kg, no scusate 30 kg, non scaliamo di peso perché sennò anziché migliorare andiamo a peggiorare. 30 kg 5 ripetizioni, per 3 serie ovviamente. Il primo esercizio fatto, adesso push down ragazzi, tricipiti. Alla corda faremo 3 serie per 10 con 20 kg. Grazie. ragazzi adesso push down presa inversa con la banda di trazione ovviamente ragazzi aumento il peso 20 kg anche qui prima erano 18 però invece di 10 reps ne facciamo 8 sempre per tre serie ragazzi ultimo esercizio spinte su panca piano ovviamente presa stretta faremo un tre serie per otto con 40 kg 40 kg ragazzi non se ne parla più 40 kg e basta ok ragazzi finalmente abbiamo terminato questo allenamento ragazzi adesso ovviamente c'è fisico e noi ci vediamo la prossima puntata ciao 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 ciao